Tragedia sfiorata ieri ad Arischia in via Pescine, nelle case popolari dell'Ater. In un garage di un condominio che ospita quattro famiglie, un uomo di 74 anni stava effettuando dei lavori meccanici, ha detto. I carabinieri dell'Aquila stanno ancora indagando però per vedere se si trattava di fuochi pirotecnici, avendo l'uomo questa passione. In sequenza sono avvenute deflagrazioni di bassa intensità, fino ad arrivare a quella più forte, che ha fatto accartocciare letteralmente l'abbasculante di metallo del garage e che ha provocato un boato simile ad un terremoto in tutto il condominio. Ferito l'uomo che stava lavorando, ma non è in pericolo di vita. Il bilancio finale è stato di tre feriti non gravi. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri della Compagnia dell'Aquila, quelli di Arischia, la Municipale e i vigili del fuoco. Danni strutturali agli appartamenti non ce ne sono stati, fortunatamente sono in corso altri accertamenti e soprattutto i carabinieri stanno attendendo la relazione finale degli artificieri, che si sono protratti anche ieri sera per ulteriori sopralluoghi, per vedere se c'è una connessione con eventuale materiale pirotecnico. L'immobile è sotto sequestro, il Comune ha dovuto provvedere a sistemare altrove le famiglie, da valutare anche se c'è un'ipotesi di reato.